Benvenuti ad una nuova edizione di Calabria News 24 in forma. A Rossano la polizia ha arrestato un pregiudicato per evasione dagli arresti domiciliari. Ce ne parla Paolo Talarico. Era evaso dagli arresti domiciliari e al suo ritorno a casa ha aggredito il padre ed ha anche minacciato gli agenti. È accaduto a Rossano ed il protagonista è un pluri pregiudicato di nazionalità serba arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Rossano. L'accusa è evasione, resistenza, oltraggio e minaccia aggravata a pubblico ufficiale. L'uomo infatti, Josip Conca, era sottoposto agli arresti domiciliari e nella nottata è risultato assente ad un primo controllo effettuato alla polizia. Il padre avrebbe riferito che il figlio si sarebbe allontanato dopo avergli chiesto denaro e rotto il vetro dell'autovettura parcheggiata davanti casa. A suo rientro, in tarda notte, il 39enne si sarebbe scagliato contro il padre accusandolo di aver avvisato la polizia. È stato subito bloccato ed arrestato al dato delle minacce di morte dirette agli agenti intervenuti. Polemiche sul voto per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Cosenza, ma per il presidente Graziano Di Natale non ci sono motivi per non andare al voto il prossimo 29 gennaio. Per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Cosenza si voterà domenica 29 gennaio. A confermarlo è il presidente Graziano Di Natale che ha ribadito quanto lui stesso aveva deciso qualche settimana fa, rispondendo così alla lista per Cosenza che ha chiesto il rinvio della consultazione elettorale che, lo ricordiamo, è di secondo livello, dunque non coinvolge cittadini, ma solo sindaci e consiglieri comunali. Ritengo che la richiesta sia pretestuosa e fuorviante, ha detto Di Natale, poiché la mia condotta improntata al rispetto delle leggi e delle regole mi impone di continuare nel percorso tracciato. Porterò pertanto la provincia di Cosenza alle elezioni per il rinnovo dei suoi organismi. I tentativi di rinvio del voto democratico non possono trovare sponda in chi, come me, crede fermamente che bisogna continuare ad andare avanti nel solco della buona amministrazione tracciata in questi mesi. Nella città di Cosenza la chiusura temporanea del traffico del tratto iniziale di via Montesanto fino al prossimo 8 gennaio, oltre a creare qualche difficoltà nella circolazione del traffico, non piace ai commercianti e ai residenti della zona. Ascoltiamo il servizio. A Cosenza, seppur temporanea la chiusura del traffico del tratto iniziale di via Montesanto fino al prossimo 8 gennaio, sta creando in questi giorni qualche disagio, in modo particolare per chi deve transitare la centralissima via Limena, dove per percorrerla in alcune ore della giornata ci vogliono addirittura oltre i 30 minuti. L'idea adottata dall'amministrazione comunale è quella di rendere pedonabile, almeno in questo periodo natalizio, il tratto di strada da Piazza Scura a via Brenta, un provvedimento che ha colto di sorpresa gli stessi commercianti della zona. Guardi, fatto in questo modo sono contrario, sono contrario al 100%, perché è stata fatta un'ordinanza così, all'improvviso, a un vulmine al ciel sereno ed è stato un disastro, è sotto gli occhi di tutto che purtroppo questa, diciamo, prova, cosiddetta prova come la giustifica l'amministrazione è stato un disastro, perché la città, perché la provincia, noi commercianti non eravamo preparati. È una cosa che credo andava programmata e non in questi momenti, non in questi tempi, che sono dei momenti molto importanti per i commercianti. Ora, dico, hanno fatto un'isola pedonale che a me non sembra tale, in quanto via Montesando era una via a senso unico, adesso è diventata una via a doppio senso, anche se pur 50 metri, però a doppio senso, la gente non sa dove guardarsi, dunque diciamo che ha le sue lacune, bisognava vedere le cose, programmarle magari in momenti diversi. Dalle immagini ad ogni modo si evince chiaramente che la chiusura della strada non ha apportato alcun incremento della movimentazione pedonale, visto e considerato che nonostante il provvedimento i cosentini preferiscono l'isola pedonale della vicina Corso Mazzini. Io esprimo il mio parere liberamente, non l'avrei fatta il 23 dicembre, non l'avrei fatta all'improvviso, non l'avrei fatta senza il contributo dei commercianti, non l'avrei fatta senza il contributo dei residenti. Ecco, questo rimprovero alla nostra amata amministrazione. L'idea potrebbe funzionare, però va programmata, non si può fare così dalla sera alla mattina, in momenti un po' caldi, anche la cittadinanza ha avuto grosse difficoltà, la provincia. Ad ogni modo i commercianti e i residenti della zona per domani sera a partire dalle 19.30 hanno organizzato una manifestazione contro questo provvedimento inaspettato emesso da parte dell'amministrazione comunale. Assumere zuccheri in quantità moderata per arginare patologie importanti se ne è discusso con esperti del settore in un convegno a Fiumefreddo Bruzio. Si è svolto presso il castello della valle di Fiumefreddo Bruzio il convegno La Mara Verità. Gli zuccheri nutrono il cancro, promosso dalla neocostituita cooperativa di comunità Borgo di Fiume. Scopo dell'iniziativa è chiarire i vari aspetti del pericoloso collegamento tra dolci e tumori. A parlare di classificazione degli zuccheri la nutrizionista Pamela De Luca. Per quanto riguarda gli zuccheri bisogna fare una distinzione tra zuccheri semplici raffinati e non raffinati. Gli zuccheri semplici raffinati, ovvero il classico zucchero bianco, è quello che dà problemi alla salute perché va ad alimentare una sorta di patologie nel nostro organismo, quali diabete, tumori soprattutto, ma non solo, anche il sovrappeso e l'obesità. Bisogna ridurre il consumo degli zuccheri e bisogna valutare soprattutto dove sono presenti. Per questo motivo è importante saper leggere le etichette nutrizionali e soprattutto la dicitura di cui i zuccheri, non i carboidrati totali, ma gli zuccheri semplici presenti, in quanto sono quelli responsabili dello sviluppo delle patologie precedentemente elencate. Ognuno dal suo punto di vista tecnico e medico ha parlato della lotta allo zucchero in cui qualcosa sta però cambiando ed in particolare di zuccheri che nutrono il cancro il senologo Raffaele Leuzzi. Le cellule tumorali hanno bisogno di glucosio 20 volte di più di una cellula normale perché traggono l'energia per costruire le altre cellule tumorali e quindi nel momento in cui noi assumiamo glucosio con picchi glicemici molto alti, noi abbiamo bisogno del glucosio, ma abbiamo bisogno del glucosio che non abbia picchi glicemici perché se utilizziamo del glucosio con picchi glicemici liberiamo molta insulina. Allora le teorie attuali dimostrano e anche molti studi scientifici che lo zucchero nutre il tumore, l'insulina lo fa proliferare e crescere. Le nuove linee guida puntano a combattere i chili di troppo anche per i rischi correlati di ammalarsi di diabete, veder proliferare i grassi nel sangue e da grandi compromettere la salute dei arteri e cuore. Rolando Bolognino, biologo nutrizionista, ha spiegato quali scelte alimentari compiere nella prevenzione oncologica. La cosa che diciamo sempre alla prima lezione è che gli zuccheri oggi rappresentano un problema perché sono eccessivi e di difficile controllo perché è dappertutto, quindi quello che noi dobbiamo fare è una spesa consapevole, quindi scegliere le cose giuste perché la dieta sana inizia al momento che facciamo la spesa, quindi al supermercato piuttosto che dal contadino. E poi cercare di avere preparazioni semplici. Più è semplice, meno elaborato, qualsiasi prodotto esso sia, più salutare è. E ora ci spostiamo a Bagnara Calabra in provincia di Reggio Calabria che ha ospitato il dodicesimo raduno per cori polifonici Natal Cantando. Entusiasmante giornata quella trascorsa dal coro polifonico città di Bagnara in quel di Lancusi in provincia di Salerno presso la chiesa di San Martino. Il maestro Loredana Polimeni con la capacità che la contraddistingue ha condotto il dodicesimo raduno per cori polifonici Natal Cantando domenica 18 dicembre organizzato dall'associazione coro polifonico San Martino di Lancusi di cui la stessa è il direttore. Il messaggio del Santo Padre registrato e fatto ascoltare ad un pubblico foltissimo di fedeli presenti in chiesa ha aperto la rassegna. Nell'ambito della manifestazione che aveva come slogan se vuoi la pace educa la pace dando vita al talento che c'è in te è stato omaggiato il generale Sergio Pascali comandante dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente con una targa di riconoscimento per il suo costante impegno volto alla salvaguarda dell'ambiente. Alla rassegna hanno preso parte moltissimi cori delle varie cittadine della Campania presenti anche la corale polifonica città di Bagnara composta da coristi del centro Porelli e Marinella diretta dal maestro Loreda Napolimeni e il coro gregoriano Monserrato Vallelonga diretto dal maestro Don Vincenzo Barbieri. Nel corso della manifestazione c'è stato il gemellaggio tra i cori polifonici città di Bagnara e Monserrato Vallelonga con il coro di San Matteo di Salerno e il tutto siglato con scambi di doni e pergamene. I due cori calabresi guidati da Don Barbieri domenica mattina hanno inoltre animato la celebrazione liturgica nel santuario della Madonna del Rosario di Pompei emozionando con i loro canti tutti i fedeli presenti. Le due corali con gli accompagnatori al seguito avevano già trascorso la giornata di sabato visitando il santuario francescano a Cava dei Tirreni e guidati da padre Anacleto Bracco hanno potuto ammirare il botafumeiro, l'incensiere più grande del mondo, dal peso di 80 chili, visitare il presepe monumentale, uno dei più bei presepi italiani ed il villaggio di Babbo Natale allestito nel chiostro del convento. Nel pomeriggio Don Michele Pecoraro ha guidato il gruppo nella visita del Duomo di Salerno di cui da qualche mese il maestro Loredana Polimeni è stato nominato direttore della corale, ammirando così la bellezza della cripta che custodisce le preziosi reliquie di San Matteo. Tutti insieme poi ad aspettare l'accensione delle luci d'artista le famose luminarie che caratterizzano la città campana. Sarà Giussi Versace la madrina di una manifestazione di solidarietà in programma per il prossimo 13 gennaio a Rossano. Qualche settimana fa al Teatro Rendano di Cosenza è andato in scena lo spettacolo tratto dal suo libro nel quale racconta la sua storia insieme a Raimondo Todaro. Ora Giussi Versace torna in Calabria e precisamente al Gran Gala di Ballo in programma il prossimo venerdì 13 gennaio alle ore 20 al Palaeventi di Rossano Scalo. L'atleta, ballerina o se preferite donna di spettacolo a 360 gradi sarà quindi la madrina di eccezione di un evento aperto a tutte le scuole di ballo del territorio ma soprattutto organizzato per essere una grande serata di solidarietà e sensibilizzazione. La manifestazione infatti promossa dalla cooperativa sociale I figli della Luna vuole in un certo senso abbattere le barriere della disabilità. Chi allora meglio di Giussi Versace che ancora una volta sarà in Calabria insieme a Raimondo Todaro per continuare a formare una coppia capace di esaltarsi sul palco come è accaduto nell'ormai famosa trasmissione Ballando con le stelle. E per questa edizione è tutto, io vi aspetto alle ore 18 per ulteriori aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi, a più tardi!